Camer, ristrutturazioni di interni, Via Aldomoro 38, Sondrio. Dietro di noi il mercato coperto di Campagna Amica Coldiretti, struttura inaugurata nel novembre del 2018, struttura assolutamente attiva in queste giornate di coronavirus. Vediamo. Dietro di noi c'è scritto, ho bisogno di conoscere la storia di un alimento, devo sapere da dove viene, devo immaginarmi le mani che hanno coltivato. Nonostante la problematica altamente critica del Covid-19, la genuinità e i prodotti della terra vanno sempre forti. Allora, quella frase è una frase di Carlin Petrini. Allora, per noi la coniughiamo in questo modo. territorio, sicurezza alimentare, certezza che quello che viene prodotto e messo in tavola hanno fatto mani che conoscono il loro mestiere, menti che conoscono, intelligenza che conoscono quello che stanno facendo. Siamo nel mercato coperto di Campagna Amica Coldiretti, aperto abitualmente il sabato, è cambiato qualcosa naturalmente negli ultimi tempi, ma comunque il sabato qui dentro c'è una vera e propria centrale operativa. Sì, abbiamo iniziato il 10 di novembre del 2018 e abbiamo avuto una risposta immediata, positiva. Ecco, dobbiamo ringraziare certamente che l'amministrazione comunale di Sodoma che ha condiviso questo progetto. Le cose vanno. Naturalmente col coronavirus abbiamo pensato anche noi cosa si potesse fare per dare continuità a questo mercato così partecipato, in realtà così consolidata in Sondrio. Per cui con la sollecitazione dei Coldiretti nazionale, che è un motore che viaggia a parecchi cilindri, diciamo così, è un motore molto potente, è arrivato questo input e abbiamo provato anche noi a capire cosa poter fare, ecco, è nato questo, chiamiamolo porta a porta, che funziona semplicemente in questo modo. I consumatori si interfacciano direttamente con il produttore, direttamente le loro aziende, fanno l'ordine, l'ordine viene preparato, scontrinato, seguendo tutte comunque le norme di igiene, di sicurezza e quant'altro. Il produttore al sabato viene al mercato coperto di Sondrio, a turno, rigorosamente a turno, nella sua postazione lascia i prodotti così preparati e poi noi, io ho il collega che si chiama Paini Massimo, di Coldiretti Sondrio, ci incarichiamo di organizzare la consegna che avviene tramite i volontari della Croce Rossa di Sondrio e da sabato prossimo della protezione civile del comune di Faedo. Un lavoro in crescendo, basti pensare che solamente lo scorso fine settimana sono state effettuate 220 consegne e da ieri lo stesso servizio è in funzione nel Farmer Market di Morbegno. Isacco, dove vanno questi pacchi oggi? Oggi portiamo questi pacchi, il primo in via Vanoni, il secondo in via Totti e l'ultimo sulla destra andrà in via Stelvio. Per quale ragione è importante acquistare questi prodotti? È importante acquistare questi prodotti perché, faccio un brevissimo riferimento, la campagna non si ferma, sono quelle attività, l'agroalimentare ma la coltivazione della terra, l'allevamento, che continuano. Quindi ci sono tante persone che non hanno mai smesso di lavorare. Per ultimo parliamo del progetto Spesa Sospesa. La Spesa Sospesa è un altro progetto di Coldiretti, allora è stato preso in prestito, diciamo così, il caffè sospeso di Napoli. Il consumatore viene e fa la spesa presso le aziende e poi, in virtù di quell'idea lì, compra il pezzo di formaggio, il chilo di mele, il pezzo di salume, lo deposita in una cesta e viene lasciato in dote, diciamo, al mercato agricolo coperto, che provvede a portarlo, a darlo, non so, alla Croce Rossa, alla Caritas, al Comune, in modo che loro sanno a chi naturalmente consegnarlo, alle persone che sono in difficoltà, alle famiglie che sono in difficoltà. L'evoluzione di questo progetto è quello di una collaborazione in sondrio con la Caritas e con la mensa dei poveri, che funziona tre volte alla settimana qui in Via Caimi. Grazie.